A Battipaglia l'amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese ha pianificato gli interventi di messa in sicurezza e pulizia delle microdiscariche. Saranno attivati anche nuovi strumenti di controllo. Tutto nasce dalla protesta di alcuni cittadini che hanno affisso in piazza Madonnina uno striscione con su scritto diritti negati, voce al popolo, che lamentano il proliferare delle microdiscariche. L'amministrazione guidata dalla Francese ha risposto ordinando al nucleo di protezione civile guidato da Michele Mattia insieme alla collaborazione dei dipendenti di Alba un vero e proprio censimento delle microdiscariche in città fino agli inizi di settembre. Anche la Polizia Municipale intensificherà i controlli perché ci sono strani afflussi di pattume ed è facile pensare che in alcune zone ci possa essere la mano di qualcuno senza scrupoli che li trasporta da altre zone e li scarica nelle strade di Battipaglia. Sono in corso indagini anche su questo aspetto.